Ehi va ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Ci restano soltanto due sfide, la 27 e la 28 Ma c'è una new entry, personaggio nuovo che ho acquisito Questo vi può dare qualche indizio su qualcosa che prossimamente andremo a fare Ma sicuramente forse avete già capito se mi seguite su Facebook oppure su Instagram Comunque andiamoci a fare la 27, vai! Ultron si rinforza lentamente Concentrati per batterlo prima che raggiunga il suo piano potenziale Ok La mediocrità deve essere distrutta Ecco qua, da Pazzamco, se li cominciamo subito Abbiamo subito il nostro fantastico Iron Man No Iron Man, secondo me sei Sei superiore Vai, vai Andiamo col laser Attenzione No, di qua, di qua No, di qua mi piace Allora, vai Ultron Che voce strana che hai Ultron Aia, spostati, spostati Vai di qua, vedi qua È meno agile sicuramente Aspetta, dobbiamo potenziarlo di meno Vai con l'energia, vai Bellissimo quella potenza Aspetta un po', vai così Andiamo È mio, è mio Vai, 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 vai Beccato Aia Ecco qua, vai così Lo usiamo subito Vai Non credo proprio Allora, se riesci a becchiarlo Aia, sui fianchi Vai, vai, attaccalo Lo attacchiamo insieme Lo attacchiamo insieme Vai, vai, vai Salute, basta Andiamo così con l'agio laser Vai, vai, veloce Vai, che fai, attaccalo adesso Adesso, vai così Vai adesso Vieni qua, vieni Guarda che sei Ma porca Ah, bravo, lancialo Attaccalo adesso Era quasi morto, era Ma dai, ma dai Aspetta, no, dall'altra parte Adesso, adesso Ho la tua attenzione Vincere non è mai sopravvalutato Duplicato robot o no È stato stupefacente Eh, grazie Ok, gettone Anche della prova ottenuto Ci becchiamo un attimo I punti esperienza Anche se sono pochi Anche perché stiamo Al livello 7 Con Iron Man Che cazzo lì Ok, andiamo avanti Ci facciamo l'ultima sfida Vai Monte Asgard Questi duplicati robot Degli Avenger Assomigliano in qualche modo Agli originali C'è solo un modo Per scoprirlo Quale? Aia Ah, siete in due Ammazza Che stacco di coscia Che c'hai Oh, guarda lì Ti ho scaraventato L'oltanissimo No, ragazzi Iniziamo subito Ragazzi Oh, ragazzi Allora, facciamo così Dai Ah, se l'è becchiato Oh, avete visto Come si fa L'azione violenta No, ragazzi Vabbè, però Se lanciare In continuazione Queste robe Qua non ci capiamo Una mazza Forza, forza, forza Forza Aia Oh, aspetta 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 Ok, brava 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 che è mia Aspetta che arrivo 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 Oh, sta abbassando Se l'è fregata lei Aspetta che forse Riusciamo a toglierlo Riusciamo a toglierlo Eh, dai Vieni qua, vieni No, ci ha fregato Alla grande Beccati questo Ci becchiamo Aspetta Lancio Eh, sei grandioso Facciamo schifo Tutti e due Vai, vai Forza, Iron Man Ma porca Aspetta Perché non riesce a fare A caricare bene Ah, ma dai Vediamo un po' Non mi piace sta mossa Eh, non mi piace Riprova Ecco Forza Attacca, attacca, attacca Ok, bravo Continua ad attaccare Continua ad attaccare Ma dobbiamo fregare Questa ci frega Oh, è di data Trasparente Una Sega Attenzione Eh, aspetta 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 No, no Bastardo Vai, vai Beccatolo tu Beccatolo tu È mio, è mio È mio Eh, dai Vabbè Però Eh, ecco Meno male Ci ha messo 20 minuti Ecco qua Forza, forza Ragazzi Forza Stai sparando a quello giusto Vero? Sì, eh Ok, guarda Guarda come si attacca Penso che stiamo quasi Alla fine Ecco qua Il primo forse è quasi morto Attaccalo, attaccalo Chi è il prossimo? Diglielo, diglielo Chi è il prossimo? No, no Spassa dall'altra parte Chiedimi scusa E ti lascerò stare Un duplicato robot di Yokai È stato rilevato nelle vicinanze Avvicinati e fallo fuori Non c'è bisogno Guarda qua Guarda qua Madonna Io lo adoro Iron Man Attento, attento Attento Stendi il tappeto rosso Hai compagno? No, no, no Non stendiamo niente Aspetta Chi è questo? Attacca, attacca Vai, vai, vai Attaccami Dall'altra parte Dall'altra parte Cazzo, ci sta pure Hulk Iniziamo male provo Non mi piace questa situazione Attenzione No Hulk Cazzo Che hai fatto? Che hai fatto? Eh, vabbè, ma così non vale Aspetta Ok, vai Attacca Ci facciamo Prima fuori No, no Problemi di più No Bastardo Aspetta Aspetta Mi date un po' di energia Cazzo Qua dentro nel centro Ok Voglio beccarmi un po' di energia Eh Ma gioli con la pasta Attenzione Oh, chi è che sta Aspetta, aspetta Che adesso ci freghiamo un attimo Attaccalo, attaccalo Vediamo un po' Ok Vai così Ok, l'abbiamo fregato Purtroppo Ecco qua Aspetta, aspetta Hulk è furioso Andiamo così Devo gestire bene Ok Gestiamo bene Non ti facciamo fregare Ma Aspetta Che c'è Ah, questo è ancora vivo Porca miseria Allora, se non mi dai una mano No Aspetta Facciamo Cazzo Mi sono congelato Congelato Aspetta, aspetta, aspetta Vai Ecco qua Hulk Te devi andare Andiamo Attenzione, attenzione Attenzione, Hulk Eh, che palle Che culo, ragazzi Oh, aspetta Che No C'è Eh, vabbè Ma non è giusto Ci avevamo anche l'energia Ci avevamo C'è fregato alla grande Aspetta, aspetta Aspetta No Eh, lo sapevo che c'eva la salute bassa Aspetta un po', aspetta un po' Ci allontaniamo un pochetto Vediamo se riusciamo Ecco qua Bravissimo Sta mossa mi è piaciuta alla grande Vai così Cercavo di combattere da lontano Perché c'ho la salute un po' Un po' che è giunibile Attenzione Ragazzi Che vi fate? Vi veniate da soli Attenzione di là Attenzione di là Sciate qualche cosa Ecco qua Forza ragazzi Becchiatevi questo E diglielo Hai sconfitto i duplicati Avenger E lo shield ha potuto analizzare Le tue tecniche di combattimento Grazie Prego Uh, sento qualcosa di nuovo Che si sia sblocchiato Bella collezione Impresa completata Ammazza Mille Uh, la scatola dei giochi Ok Montasgard Montasgard Ah, Montasgard Abbiamo sblocchiato Anche quest'altra cosa E questo ci fa piacere In pratica abbiamo fatto Praticamente Tutte le sfide Con il nostro nuovo personaggio Iron Man Che stanno andando Comunque Anche degli altri Comunque ragazzi Questa serie Termina qui Abbiamo fatto Praticamente Tutte le varie sfide Comunque Spero come sempre Questa serie Mi sia piaciuto Non vi ringrazio sempre Di commentare Sempre di mettere mi piace Noi ci vediamo Al prossimo episodio E bye bye